Musica Ok, buongiorno a tutti, sono Pier Gioslan, amministratore delegato della Lago. Lago è una dita di famiglia, siamo qua a Cittadella dove c'è la talpa del Giro d'Italia. Siamo molto orgogliosi di poter partecipare a questo evento sportivo. Noi facciamo delle merende, ma facciamo anche altri prodotti dolciari d'Italia di forno. Siamo ormai sposati con francesi, come lo potete sentire, perché io rappresento la famiglia Bouvard. Queste due famiglie fanno dei prodotti che sono prodotti soprattutto per il piacere, che sono dei prodotti sani. Che puntano anche ad essere pratici, con una certa concezione della sostenibilità. Abbiamo delle origini, quindi francese, e puntiamo ovviamente a sviluppare il territorio italiano. E troviamo che questo evento è pienamente in coerenza con quello che siamo. Quindi adesso festeggiamo perché il Giro d'Italia passa davanti alla nostra fabbrica di galliera. E vi auguriamo una buona giornata. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie.